Il gruppo del PD in Consiglio regionale ha presentato due proposte di legge che puntano a creare nuovi strumenti per l'integrazione fra i servizi sociali di stretta competenza comunale e sanitari di competenza di asle e regioni, creando una nuova governance istituzionale e superando il modello delle società della salute, pur senza compromettere i buoni risultati ottenuti da questi consorsi in alcune zone della Toscana. Perché abbiamo visto nell'esperienza di questi anni che ci sono state esperienze positive in alcuni casi come nel caso della società della salute e invece altre esperienze organizzate in maniera diversa. Questa legge vuole dare l'obiettivo di una uniformità degli strumenti su base regionale per poi lasciare agli enti locali la migliore forma di organizzazione rispetto alle proprie esperienze. La legge costruisce un sistema di governance su più livelli regionale, di area vasta e a livello aziendale più efficace a noi sembra in questa proposta rispetto a quella attuale, stringe rapporti fra enti locali e regioni all'indomani delle tante modifiche che ci sono state nel corso degli ultimi anni, cioè la definizione dei ruoli della provincia per esempio come prima cosa, poi il fatto che i comuni, gli enti locali sono obbligati a gestire in forma associata molte funzioni, tra le quali, importantissima quella del sociale, c'era bisogno di rimettere ordine a tutte queste dinamiche, sono molto complesse e molto incisive sulla vita dei cittadini. Le due proposte di legge del PD sono state sottoscritte da tutti i gruppi di maggioranza, IDV, Centro Democratico, Federazione della Sinistra Verdi e Consigliari di maggioranza del gruppo misto, e vanno a corredo del piano regionale sociale integrato attualmente all'esame della Commissione Consigliare Sanità.